La Sabri e Pika, due star del web e tra l'altro una coppia nel lavoro e nella vita. Intanto, com'è nata la vostra passione? Allora, in realtà per caso, perché io sono sempre stata un'appassionata di videogiochi, quindi da quando sono piccola giocavo, giocavo, finché a un certo punto tante persone, anche influenze nel settore, hanno iniziato a dirmi, ma perché non giochi online, che ci piace come giochi, ci piace come parli? Allora, per caso, ho iniziato a giocare online ed è andata evidentemente molto bene. Pika, tu tra l'altro sei un videomaker molto famoso. Il numero uno, non perché mi ho fidanzato, ma dico sempre il numero uno per me in Italia. Sono uno a cui piace tanto il mio lavoro, per cui mi rinnovo sempre, cerco sempre di essere aggiornato e di fare sempre delle cose nuove. Abbiamo la fortuna, lavorando sul web, di inventare noi il linguaggio, quindi non c'è niente già di scritto, siamo noi che stiamo inventando questo mestiere, quindi possiamo fare praticamente quello che vogliamo, e quindi è molto libero e molto creativo lavorare in questo campo qua. È importante non solo passare l'intrattenimento, ma per me, specialmente al giorno d'oggi, è importante passare dei messaggi molto importanti, che magari riguardano anche tematiche, che sono non facili da raccontare, da spiegare, ma che sin da bambini bisogna trattare. Quindi noi lo facciamo nei nostri video. A un pubblico di bambini che sono in una fase in cui si fidano ciecamente di quello che noi gli diciamo, quindi noi cerchiamo di usare questa minima influenza che abbiamo su di loro per trasmettergli dei valori.